Siamo in compagnia del mister larvagnese Alberto Ruvo, a cui chiedo un commento sulla vittoria nel derby per 1-0 contro il Riva Samba. Beh, è stata una vittoria sofferta per quanto riguarda il risultato. Meritavamo sicuramente di chiudere la prima, abbiamo avuto tantissime occasioni, però abbiamo fatto parecchie ore sottoporta che hanno permesso a Riva Samba di non mollare, giustamente, di provare a fare quello che si doveva fare in questi casi qua, lanciare le pare lunghe e cercare di rimistrare di vigore. Un paio di volte abbiamo anche rischiato di pareggiare una pareta assurda, però io ritengo che dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Abbiamo avuto una partita che se pareggi siamo qua a eliminarla per vita naturale durante. Dobbiamo chiuderla e se vogliamo migliorare dobbiamo essere più cinici, cattivi. Oggi comincia il campionato, diciamo un altro campionato perché il giro è di ritorno, comincia. Come lo affronterete? Beh, no, non è un altro campionato, è il giro è di ritorno e ultimamente stiamo facendo delle buone cose, stiamo ottenendo dei buoni risultati e come dico sempre dobbiamo cercare di migliorarci perché se no non ci possiamo contentare di quello che stiamo facendo. Io ritengo, come dicevo prima, di guardare noi stessi, di non guardare troppo gli avversari con cui giochiamo, decidere anche se giochiamo in casa o fuori perché noi adesso abbiamo bisogno di macinare punti più possibili.